La finta di Divaio, 1-2 con Treseghe, Divaio, Marco! Divaio! Un gol pazzesco di Divaio, pazzesco! Sono matto, sono matto per averci provato e c'ha ragione. Che gol straordinario, straordinario. L'aggettivo l'edetto che stanno iniziando, pazzesco, hanno fatto un'azione bellissima. Fitte di andare in conto, ha ricevuto la sponda di Treseghe e poi al volo ha lasciato partire un tiro impedibile. E neanche Dida è riuscito a prendere questa palla. Gol bellissimo, organizzata, anche l'azione molto bella, ha lasciato partire la gamba molto bene e ha trovato l'inforzo dei pari. Ma che bel gol! Finta! Triangolo di Treseghe che non era neanche pulitissimo. Guardate Divaio con il sinistro, un gol che resterà nella storia di questo campionato almeno. Buona l'azione Fabio. Nella sua bellezza. Finta, è andato incontro Divaio, ha fatto la finta. Finta, è andato insieme.